...a quella buona parte dell'apprevoazione mondiale come me, intelligentemente, si vina a provarci come persone già rilanzate. Ovviamente il fallo è davvisamente, questo è il più sicuro della canzone. ... no 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 say you leave me Oh, 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 oh You know we can't be friends Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I know we can't be friends I can't constantly be one of those Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti